e non puoi venire in macchina con noi perché non ci abbiamo posto allora io sono dovuto andarci a piedi e adesso sono quasi sotto il colle del canile pausa acqua e spuntini mandorle noci uvetta poi monto il bastone perché adesso c'è la parte più dura di tutta la gita diciamo no e va bene è così ciao